non avrei mai pensato di lasciare Bergamo sono settimane che cerco le parole giuste ma non riesco a dire qualcosa che non avrei mai voluto dire ma oggi è il giorno dei saluti ringrazio la città di Bergamo perché per quasi sette anni mi sono sentito come a casa mia ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questi anni ringrazio ogni tifoso che ho incontrato per la strada per ogni parola d'affetto ringrazio lo staff dell'Atalanta che mi è sempre stato vicino ringrazio i miei compagni per l'esperienza vissuta insieme ringrazio il mister per quello che ho imparato in campo in questi anni ringrazio la famiglia per casi per la fiducia data sette anni fa ho lasciato il cuore in ogni partita giocata e sono orgoglioso di essere stato il capitano dell'Atalanta che oggi si trova tra le migliori d'Europa un'esperienza che rifarei mille volte appresto Bergamo, grazie e tutto e sempre Forza Atalanta